si si è distratto che stai facendo? è finito? si? è finito volevi i biscotti? terremoto lui è un terremoto lui è un terremoto di bambini vieni guarda qua ce l'ho siamo sempre vicini siamo sempre vicini vieni ma che fa svegli and rein nanno mi stai rip mystery mi stai rip 정부 curiosa deve controllare è meno male dai vieni anche tu un altro oggi non ci siamo ragazzi siamo assondati ancora? su vieni niente mi vuoi pensare un po' oggi? sì va bene oggi è polemica è nervosa ma tu che vuoi? tu hai già trovato adozione che dobbiamo fare lei adesso ma come facevo a non trovarla che sia il più bello della pensione? la vuoi? bravissima si siede hai visto? non ho niente pure lui pure lui bravissima brava non è molto non è molto brava 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 eccola eccola stai giù vedi com'è bravo a lui così giù giù pure tu brava come sono bravi ma quelli sono bravissimi quando vogliono l'ora dove se ne andà pronto? vieni dove lo vuoi? vieni vieni vai va bene ti scocciate se ne ho vieni